Tutti è curiosa la storia di Roberto Lopez che è un difensore di origini, cioè che gioca a Dublino però è originario di Capoverde e la sua nazionale, la nazionale per cui gioca è Capoverde. È curiosa questa storia perché Roberto Lopez giocherà la Coppa d'Africa che è in programma tra qualche giorno con il Capoverde ma è curiosa la sua convocazione perché la convocazione è arrivata su LinkedIn che è il social network più famoso a livello di reclutamento ma per posizioni lavorative è un social network professionale per il mercato e il mondo del lavoro e non per i calciatori ma è curiosa come sia arrivata questa sua convocazione proprio su questo social.